Sua maestà FJR13 è nata quasi 18 anni fa da un progetto di grande successo che negli anni ha avuto profondi aggiornamenti. La FJR13 che abbiamo provato è la AS con sospensioni elettroniche, le borse dedicate e il cambio elettroassistito che nulla toglie al piacere della guida anche sportiva. La nostra FJR ha livrea blunotte satinato denso come l'inchiostro di una stilografica abbinato a raffinati dettagli, loghi in rilievo e terminali in acciaio cromati con il telaio nero satinato e il motore grigio metallizzato, quel poco che spunta dall'ampia carrenatura. Con la nuova copia di motovalige capienti e ben integrate esteticamente la FJR ti colpisce per l'eleganza. I gruppi ottici sono tutti a led. Sotto il fanale centrale ci sono quattro faretti compatti, i due esterni fungono da abbaglianti, quelli interni si accendono con gli abbaglianti. Nella versione AS ci sono le cornering lights che si accendono in sequenza seguendo progressivamente l'inclinazione della moto. Il motore è un classico quattro cilindri in linea di 1298 CC con raffreddamento a liquido, distribuzione bialbero in testa con quattro valvole per cilindro e controllo di trazione. La potenza è di 146 cavalli a 8.000 giri al minuto, coppia 138 Nm a 7.000 giri al minuto. Il massiccio quattro cilindri di 1300 CC assicura un'erogazione sempre piena a tutti i regimi con risposta all'acceleratore sempre morbida, perfetta per la guida in pieno relax. Riprende da regimi bassissimi senza incertezze, a buona spinta ai medi e infine si scatena raggiunti 6.000 giri dove cambia faccia mostrando un'indole sportiva. In autostrada la prestazione sono di alto livello, in città è docile anche a passo d'uomo nel traffico e gli ingombri non richiedono alcuno sforzo, mentre il comfort è dovuto alla spinta morbida del motore, alla citata comodità del cambio e all'efficacia delle sospensioni nel filtrare le asperità. La posizione di guida è naturale e garantisce ore di guida senza alcun disagio. I consumi sono ottimi guidando brillanti, ma sempre nel rispetto del codice si viaggia attorno ai 16 km per litro. Nei percorsi misti collinari è ben bilanciata le basse velocità nell'affrontare le curve e nella risposta delle sospensioni che lavorando su una buona escursione assorbono tutte le asperità. L'impianto è affidato a un doppio disco con ABS. La posizione di guida è naturale e garantisce ore di guida senza alcun disagio.